ma che stai facendo e mi sto preparando per che cosa e ma fu dobbiamo fare uno speciale per i 5 mila iscritti adesso già ti stai preparando da adesso il 28 giugno alle 3 e 30 mica tra poco dobbiamo fare il 28 giugno alle 3 e 30 suome con gli amendola broadcast speciale dei 5 mila iscritti ebbè da voi al 28 giugno ti devo leggere la parfa da adesso non ti conviene ma come abbiamo deciso la parola per far entrare la gente quella di sempre amendola quindi scrivono amendola e quello ci trovano tre stupidi per tutto il triggiamento la bros e lo sento arrivare guarda eccolo qua ho avuto un'idea christopher che ha un'idea questo è forte poi come l'ha detto perché non rifacciamo una serie vecchia nel frattempo che aspettiamo lo speciale di omegas però la possiamo continuare no no sto pensando che christopher avrà avuto un'idea giusto quella è la notizia tra poco pioverà ma quale facciamo poi il weekly vlog secondo te il weekly vlog? ma penso che avevamo solo 1000 iscritti è vero magari forse ma pure pure l'angolo del retro gaming era grande magari potremmo fare mario bros bugs bunny lost in time tanti dai giochi dai bel giochi oppure potremmo fare happy wills quello pure era bello oh guarda con la tua stupidaggine hai visto pure super mario potremmo fare da con da con approva ma come facciamo a capire che scegliamo noi quale dobbiamo fare noi scegliamo noi cosa facciamo che facciamo scegliere abbiamo 5000 iscritti adesso che possiamo far scegliere? scegliete voi commentate sotto il box commenti il gioco che vorreste vedere è la serie vecchia che vorreste rivedere qua sembrerà di 80 music non mancate al speciale dei 5000 iscritti suomego il 28 giugno alle 3 e 30 un'ora staremo fino alle 4 e 30 noi siamo prodotti già da dire già mi sto facendo la barba già si sta facendo la barba da adesso quindi scriveteci nei commenti la serie che vorrete che ritorni e niente più vorreste che ritorni buona barba io non faccio la barba vabbè ciao no barba vabbè